Cuperlo, uno dei candidati alla segretaria del Partito Democratico, ma che cosa sta succedendo nel Partito Democratico? Ma niente, si discute, adesso dovremo l'accordo, facciamo le regole, la data c'è, l'8 dicembre finisce il congresso, e adesso facciamo un bel congresso, ma era stata trovata pure la quadra, adesso finiamo, l'8 dicembre si vota. Alla l'8 dicembre stiamo tranquilli che si vota, speriamo che non piova, guarda che tempo che c'è oggi, è 7 domenica la festa della Madonna, io l'ho chiamato il congresso della Madonna, il congresso della Madonna.